Sono in 15, primo nastro per 8 unità, Ocahuango B, Napoleon Cuff, Titano M, Sodio degli Olivi, Shelford Run in prima fila, Spirit Dussel, Rufina Spin e Tenghill SM in seconda. A 20 metri con il 9 Bandit Orline, con il 10 Ramayam, con l'11 Uragano Nero, con il 12 Coquindela, con il 13 Travolta Trebbe, seconda fila, il secondo nastro, 14 Uraz, il 15 Valente FB. Disposizione che sembra interessante ai fini della regolarità della partenza. Vediamo. Il segnale viene giudicato valido. Si propone subito all'attacco Spirit Dussel, che va su Titano M, che era stato veloce nella giravolta. Più indietro con il numero 7 Rufina Spin, che ha all'esterno Sodio degli Olivi. Siamo adesso ai primi 400 dopo i 100 iniziali, con Tenghill SM che segue Titano M. C'è una partenza piuttosto veloce, nell'ordine del 30 con partenza da fermo per Titano M, che si trascina sempre Tenghill, poi ancora Rufina Spin, quindi con il 2 Napoleon Caff che ha all'esterno Sodio degli Olivi, il quale si trascina alcuni dei penalizzati. Intanto gli 800 in un minuto appena abbondanti. Dietro Sodio degli Olivi ci sono con il 13 Travolta Trebbe e con il 15 Valente FB, ovvero due dei più temibili del secondo nasso, il chilometro da parte di Titano M in 1.157, con Travolta Trebbe che si porta al suo esterno e si trascina sempre Valente FB. Quando siamo sulla piegata di destra, con il tentativo di Travolta Trebbe di sfondare su Titano M. Più indietro ancora Tank Gill, passa Travolta Trebbe e così arriva agli ultimi 600 al comando. Ci sono 400 non scritti in 29.5 per Travolta che ora si vede arrivare di fuori la minaccia di Valente FB. Valente che va su Travolta Trebbe, poi Bandit Orline che addirittura si proietta in terza corsia su Valente FB. Quando siamo alla conclusione della piegata, con sempre Travolta all'interno, Valente all'esterno, più indietro ancora Titano. Quindi il numero 4 di Sodio degli Olivi passa a Valente FB che sembra in grado di poter dominare su Travolta Trebbe che si mantiene ancora in quota, poi ancora Sodio degli Olivi ci prova anche Uragano Nero. Nel finale è Valente FB che viene a concludere nei confronti di un'ancora valida Travolta Trebbe. e andiamo a rivedere anche questi ultimi metri con il bel risultato di Valente FB che viene a concludere nelle mani di Antonio Di Nardo rispettando il ruolo di favorito. Il 15 al primo posto nei confronti del 13 Travolta Trebbe, mentre per il terzo c'è foto con Sodio degli Olivi all'interno e Uragano Nero all'esterno, il raguaglio conclusivo è di poco superiore al 2,30. Vedremo come sarà giudicato dai cronometristi. Grazie a tutti.